Tre associazioni presenti nel territorio ormai da molto tempo, l'ADMO, la FIDAS ADAS e l'ADOCES. Voi vi occupate di volontariato, vi occupate soprattutto di vite umane. Sì, noi ci occupiamo di donazione di midollo osseo, della sensibilizzazione alla donazione del midollo osseo e assieme a queste associazioni che sono una risorsa del territorio, noi portiamo avanti diverse iniziative perché il tema è sempre quello, il dono. Noi ci stiamo sforzando per portare avanti la cultura del dono e la città sta rispondendo in maniera straordinaria. Anche l'ADAS, presente nel territorio da quasi 40 anni, si occupa proprio della promozione della donazione del sangue ma soprattutto anche della tutela del donatore. Sono tanti i donatori a Gela ma non sono mai abbastanza. Noi chiediamo sempre a gran voce che le persone, la gente, i liberi cittadini, i giovani e anche gli anziani perché adesso si può anche donare fino a 70 anni. Si avvicinano alla nostra associazione, si avvicinano alla cultura del dono e quindi in questo caso la donazione del sangue. Adoces Sicilia è invece l'associazione di donatori di cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale e intende sensibilizzare le mamme in attesa, i genitori in attesa di un figlio, verso la donazione del sangue cordonale perché nel sangue cordonale sono contenute le cellule staminali e quelle stesse che sono contenute nel midollo osseo e che servono a curare e quindi a offrire la speranza di una nuova vita a tutte quelle persone che sono malate di malattie oncoematologiche. Lei è una donatrice e grazie al suo gesto d'amore ha salvato una vita umana. Che esperienza è stata? Allora è un'esperienza molto forte, non si può spiegare semplicemente con le parole, però da questa esperienza vi posso garantire che ho ricevuto anch'io, ho dato la vita a un'altra persona, mia madre, però ho ricevuto anch'io tanto da questa esperienza. Non bisogna sottovalutare le potenzialità dell'essere umano e per potenzialità non intendo cose materiali o altro di questo tipo ma supporto morale, l'amore, la solidarietà. Di fronte a una malattia, soprattutto poi quando tocca un parente vicino, la vita ti cambia e ti rendi conto che le cose importanti della vita sono altre, proprio la vita è importante. Io invito tutti a riflettere su questo mio pensiero. Poter essere un giorno qualcuno che può salvare qualcun altro non è cosa da sottovalutare, dovremmo tutti riflettere su questo.